Tutta salute e volute Saras Tu bu tu bu tu Coglione, sei tu il coglione Mianurone, adesso do sesso Me lo fai vedere, fammelo vedere, dai Ora io ti insegno come si fa uno stufato della tua persona Suona il telefono, torno immediatamente Signore e signori, interrompiamo il programma per darvi una notizia della massima importizia Servizio di igiene pubblica avvisa che tutti i conigli comprati negli ultimi tre giorni sono conigli Oh, cribbio Ma cribbio, ma cosa fate? Sass Salas Salvelas Salve Ma sei ancora qui? Io qui Ti avevo detto di sparire Quarantena per la coglione Nessuno lascia la propria abitazione Salve 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 Salve